Buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6 lunedì 19 giugno 2017 inizia una nuova settimana e lo potete fare in nostra compagnia sfogliando le pagine dei quotidiani locali e le prime pagine delle testate nazionali per tenervi aggiornati su tutto quanto sta accadendo nella nostra regione ma non solo iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani locali andando a vedere le quattro edizioni del centro e anche la prima pagina del messaggero Abruzzo. Qui siamo sul centro edizione Aquilana, muore in moto punto da insetto, questa è l'apertura dell'edizione Aquilana. Ad Avezzano fatale una reazione allergica per un meccanico di 59 anni, aperta l'inchiesta. E poi vediamo al centro la fotonotizia che accomuna le quattro edizioni del centro a cinque mesi dalla tragedia del resort Rigopiano, la marcia del ricordo. E poi di spalla l'Aquila al ballottaggio, ecco le promesse alla città di Benedetto e Biondi, rappresentanti rispettivamente del centro-sinistra e centro-destra che si sfideranno domenica prossima 25 giugno nel ballottaggio che dirà chi sarà il nuovo sindaco dell'Aquila al posto dell'uscente Massimo Cialente. Sempre all'Aquila, addio a Sciarra, pioniere delle tv locali. A Corfigno per la cronaca quattro arresti per il furto all'ex Coca-Cola. In basso, ieri è stata la giornata di Iron Man a Pescara. Zanardi fa il pieno di applausi. Alex, protagonista ad Iron Man, ho sfidato il mare grosso. Avanti ancora con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Rischia la vita per salvare tre giovani a San Salvo. Bagnante si tuffa in aiuto di figlia e amici e ricoverato in rianimazione. E poi di spalla la tragedia in montagna. Giovane Terramano muore nell'escursione in Trentino. Si tratta del 23enne Filippo Di Francesco. E poi a Chieti nuovo ospedale. Oggi consiglio infuocato. A Rocca Montepiano, in tanti, danno l'addio a Vito, morto in galleria. E poi ancora l'edizione di Terramo. L'apertura, l'abbiamo visto poco fa. Chiaramente nell'edizione Terramana questa notizia guadagna purtroppo l'apertura. Muore in montagna a 23 anni. Studente Terramano precipita in Trentino. Era il figlio di un noto imprenditore. E poi restando a Terramo per la politica. Crisi in comune. Brucchi, basta, decido io. La giunta o dentro o fuori. Poi ancora sulla costa d'Alba. Bagnini, soccorsi dopo un salvataggio. A Giulianova il PD chiede a Mastro Mauro tre assessori. E poi l'edizione di Pescara. Ironman nel 2018 va fuori. Pescara saranno coinvolte anche Montesivano e Spoltore e in città gare a Porta Nuova. E poi tra i richiami a Pescara la ASL assume 64 medici e infermieri. A San Salvo rischia la vita per salvare tre ragazzi. E poi in basso per lo Sport. Zeman aspetta il sì di Gans. C'è fiducia per l'ok della punta nonostante l'affondo del Genoa. E adesso passiamo al messaggero Abruzzo. Questa la prima pagina precipita durante la scalata. Il Terramano Filippo Di Francesco, 23 anni, trovato morto in un burrone sulle Dolomiti. Impresa in solitaria sulle palle di San Martino. Volo di 50 metri. SOS lanciato dalla fidanzata. Dei richiami sotto la testata. Chieti Stellario Dance in 2000 ballano nel parco della Civitella. Per il calcio di Serie B il Pescara frena sul mercato. Zampano in uscita. Ipotesi Balzano. Sarebbe nel caso un ritorno. Poi per il calcio a 5 lo sfogo del tecnico del Pescara Colini. Scudetto. La finale è stata condizionata. Il movimento non merita dirigenti come i nostri. Siamo arrivati a pezzi alla sfida decisiva ma in gara 1 abbiamo sbagliato a reagire. Quindi anche un po' di mea culpa per quanto accaduto in gara 1 per il tecnico del Pescara Calcio a 5. Di spalla. Occupazione ancora in calo. La ripresina non crea posti. La regione arranca in quasi tutti i settori. Bene solo i servizi. Poi la fotonotizia al centro della pagina. Ironman Pescara. L'uomo d'acciaio parla francese. Applausi ad Alex Zanardi. Proteste per il traffico caos. Invece ad aver vinto l'edizione 2017 di Ironman. Appunto è un francese. Si tratta di Cyril Viennot. Sempre in taglio medio. Mare in tempesta. Bagnante eroe. Salva tre ragazzini. A San Salvo. L'uomo ricoverato in rianimazione con gravi ferite. Un principio di annegamento. E poi in basso Chieti. Bulli contro un diciassettenne. Questo dunque per quanto riguarda le prime pagine delle testate locali. Adesso andiamo a vedere le nazionali. Tra l'altro vi preannuncio che andremo anche sul web per ulteriori aggiornamenti per dei fatti che sono avvenuti nelle ultime ore e che non trovano spazio nei giornali che avevano evidentemente chiuso prima la loro edizione. Siamo sulla prima pagina della stampa. Le stragi del clima fuori controllo. Fulmine scatena un maxiruogo in Portogallo. 61 morti. In India ondata di suicidi per la siccità. L'ambiente è emergenza globale. In Italia ogni giorno 43 reati contro il mare. La spiaggia della dolce vita soffocata dai rifiuti. E poi in basso Musul nelle trincee contro il califfo con le truppe d'assalto irachene mentre gli americani colpiscono dall'alto. Blitz jihadista al resort degli occidentali in Mali. Due morti. Le forze speciali liberano 32 ostaggi. Avanti ancora con la prima pagina di Repubblica. Padoan avanti con le riforme sgravi per assumere giovani. Iussoli. Lega attacca i vescovi. Galantino c'è chi è contro solo per interesse. E poi sotto la testata oltre 60 morti in Portogallo imprigionati tra le fiamme mentre fuggivano in auto. Un muro di fuoco. L'incendio dei boschi che ha devastato Pedro Gao. Forse causato da un fulmine. Poi ancora effetto Macron conquista pure la maggioranza in Parlamento. Ma in Francia c'è un'assenzione record. E poi in taglio medio scontro politico sulle dimissioni di Marroni. Consip indagato Ferrara mentre mente su fuga di notizie. Avanti con il fatto quotidiano. La bomba Marroni su Renzi. La D di Consip teste chiave su papà Tiziano e Lotti. Non si dimette e va al contrattacco. E poi sotto la testata ci sono questi due richiami. Parole di Cuffaro. Le regionali in Sicilia. Io non consiglio candidature. Orlando è un fico molle. Il bastardone duro sarà grasso. E poi le politiche in Francia. Stravince Macron e ribalta tutto il Parlamento. Maggioranza assoluta. Entra Le Pen. Crolla l'affluenza. E poi al centro. Storia di copertina. Lezioni private. Il business delle ripetizioni ai tempi della buona scuola. E poi sempre al centro. Neosinistra. Quelli del no contro tutti. Fischi a MDP. Critiche a Pisapia e ad articolo 1. Avanti con il giornale. La maledizione del fuoco bruciati vivi dentro le auto. Dopo Londra il Portogallo. Rogo nei boschi. Più di 60 morti. In Italia mancano gli elicotteri anti incendio. E poi leggiamo in alto. Boschi nei guai. Papala sbugiata su Banca Etruria. Consip. L'ex presidente è indagato per falso. E poi ancora al centro. Festa in una città blindata. Milano chiusa per concerto. Così ci siamo già arresi all'Isis. E poi sempre in taglio medio. In campo per le zone terremotate. La denuncia di Berlusconi c'è la tassa sulle macerie. Questa è l'apertura di Libero. Via dal lavoro sempre più tardi. In pensione solo dopo morti. Il governo studia un decreto per alzare a 67 anni l'età del ritiro. Ritoccando in peggio la riforma Fornero. Eppure nell'Unione Europea siamo già tra i più anziani a lasciare l'impiego. Il motivo? L'Inps sta fallendo perché mantiene chi non ha versato i contributi. E poi ancora la fotonotizia al centro. In tasca un dividendo da 25 milioni il carcerato più ricco d'Italia. Romeo accusato di tangenti all'agenzia governativa Consip. Avanti con la prima pagina del messaggero. Macron padrone del Parlamento. Trionfo di in marcia alle elezioni legislative francesi. Maggioranza assoluta con 361 seggi. Astenzione record. Vota il 43,4%. Male i socialisti. Le Pen eletta per la prima volta con sette deputati. E poi sotto la testata gli europei. L'Italia Ander 21 batte i denesi 2 a 0. Ma Donnarum viene contestato. E poi ancora la fotonotizia a Portogallo. Inferno nella foresta. 61 morti. Automobilisti in trappola. Fra le fiamme bruciati vivi o asfissiati. Fra le vittime anche quattro bambini. L'incendio provocato da un fulmine alimentato dal vento. E poi c'è la lettera di spalla. La lettera del sindaco di Roma Raggi. Sto invertendo la rotta. Così cambieremo Roma in cinque anni. E poi ancora in basso. Caso Consip. Indagato il presidente uscente. Il dimissionario Ferrara accusato di false informazioni ai PM. E siamo al tempo. L'apertura che minchiata. Questo è il titolo d'apertura. Ecco tutte le intercettazioni di falsa su Berlusconi e il capo mafia. Il boss sa delle telecamere. Le fissa e confida. Vogliono il cavaliere. E poi di spalla. Repubblica e gli altri sfruttatori. Il vizio sinistro di usare i bimbi come agiprop. E poi in basso. Strategia della pensione. Al lavoro fino a 67 anni. La vita media continua a crescere. E il governo studia come adeguare il momento di uscita dall'attività. Il secolo decimo nono. Iussoli. Vescovi contro il movimento 5 stelle. C'è chi cambia idea per i voti. La spezia. Il no di forceri. In guaia. Il PD. Legge sulla cittadinanza. Fondo della CEI. Salvini. Finalmente Grillo è con noi. E poi sotto la testata. Foreste in fiamme. Trappola infernale. Portogallo sconvolto da un enorme incendio. 62 morti tra i roghi e soffocati dal fumo. Quattro bimbi identificati tra le prime vittime. Il mattino Macron trionfo nei seggi deserti. A En Marche la maggioranza assoluta. Macron ha l'affluenza. Spariti i socialisti. Secondo turno alle elezioni francesi. Flop del Front Nazionale. Ma Marine Le Pen debutta in Parlamento. Avanti ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Chiesa. Fulmini sulla Lega. Critiche anche a Grillo. C'è chi ha cambiato idea per interesse. Macron diventa padrone della Francia. Maggioranza assoluta. Siamo dunque giunti al termine della rassegna a cartacea. Ma andiamo a vedere anche dei titoli sull'online. In particolare di Corriere della Sera e Repubblica per un nuovo attentato a Londra. Ecco qui furgone sui fedeli vicino alla moschea. Un morto e otto feriti. Entriamo anche all'interno della pagina per leggere qualche dettaglio in più su quanto accaduto nel corso della notte. Furgone appunto contro i fedeli. Vicino alla moschea un morto e otto feriti. Arrestato un uomo armato di coltello. Un furgone ha travolto alcune persone nella zona di Fisbury Park a nord della capitale britannica. Nei non c'erano complici. Qui poi ci sono anche delle foto. Leggiamo ancora ancora paura nella capitale britannica. Poco dopo la mezzanotte locale di lunedì, quindi l'una di notte in Italia, un furgone ha travolto alcune persone a Seven Sisters Road nella zona di Fisbury Park a Londra. Ci sarebbero almeno otto trasportati in ospedale ma i numeri non sono ancora definitivi. Una persona, un uomo bianco di 48 anni, è stato arrestato. Era alla guida del mezzo. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato uccido tutti i musulmani. E poi ancora andiamo sul sito di Repubblica perché nel corso della tarda serata di ieri c'è stato un ulteriore attentato in Mali, in particolare nella capitale Bamako. Ecco qui che andiamo alla ricerca dell'articolo in questione. Non ci sono italiani coinvolti ma chiaramente è tanta la paura. Mali, attacco contro un resort a Bamako frequentato da occidentali. Almeno due morti all'esterno della struttura turistica, colpi di armi automatiche e una colonna di fumo. Gli aggressori, sospetti jihadisti, avrebbero gridato all'Akbar. Sul posto sono intervenuti sia uomini dell'esercito magliano che forze francesi. 32 ostaggi liberati. Fonti ministeriali dicono forze di sicurezza in campo. Situazione sotto controllo. E poi l'aggiornamento anche da parte della Farnesina. Nessun italiano coinvolto. Fatti, ripeto, questi avvenuti nella tarda serata di ieri o nel corso della notte. che non hanno trovato molto spazio nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, nelle versioni cartacee, ma chiaramente abbiamo visto le versioni online. Possiamo ora tornare alle notizie di casa nostra, alle notizie che arrivano dalla regione e lo facciamo ripartendo dalle pagine del centro, in particolare da pagina 2 e 3, dove si parla di servizio civile. Ecco qui. Lavoro per i giovani, servizio civile con 585 posti. Bando per chi ha dai 18 ai 28 anni, offre 433 euro al mese. Scade il 26 di giugno. Ci sono le parole anche dell'assessore regionale al ramo, Marinella Sclocco. È un'opportunità per chi è fresco di diploma. Non ho mai sentito parlare di un'esperienza negativa in questi tre anni da assessore. Mi raccontano di esperienze incredibili. L'Aquila risponde più di tutti. Poi in basso ci sono delle testimonianze. Scelgono il volontariato per stare vicini alla gente. Da Simone e Soraya a Manuel, Roberta e Adi. 5 storie di giovani che operano per le associazioni che fanno del bene. Sono felici e trasmettono ottimismo e passione. Uno di loro dice al centro, ritengo, che far parte di una società non significa essere spettatori ma attori. Andiamo ora alle pagine di Pescara per iniziare la cronaca. Successo dell'evento dell'estate. Nel 2018 Ironman nell'area metropolitana. Il comune punta a coinvolgere Portanova e cerca un accordo con Montesilvano e Spoltore per allargare la manifestazione. La soddisfazione anche dell'assessore comunale Cuzzi in città migliaia di persone. Avanti ancora la ASL assume 64 medici e infermieri. L'ospedale ha carenza di personale in molti reparti. Bando anche per assegnare l'incarico di primario di radiologia. Poi vediamo qui di spalla crisi economica. Laurum, il docufilm del regista greco, associazione Pescara.0. In taglio medio, musical con 300 studenti per aiutare l'Agbe, spettacolo al Circus, i fondi raccolti destinati alla ristrutturazione della seconda casa famiglia. E poi andiamo a pagina 11. A cinque mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Nessuno deve profanare il luogo del dolore. Pronti i turni per le ronde, il comitato delle vittime davanti alle macerie dell'hotel. La politica non è solo taglio dei nastri. E poi ancora possiamo vedere qui alcune foto che ritraggono la giornata di ieri con il comitato delle vittime dell'hotel Rigopiano nelle vicinanze di quel che resta della struttura. Avanti ancora, palazzo pericolante, condomini beffati. Pagheremo tutto noi. In viale d'annuncio i costi dell'abbattimento dell'edificio totalmente a carico dei proprietari degli appartamenti. Invece a Città Sant'Angelo gli chef si sfidano sui sapori d'Abruzzo. Stasera al ristorante La Mugnaia. Siamo nell'area metropolitana a Francavilla. Nuova sede di informazione turistica. inaugurato e aperto al pubblico l'ufficio in una porzione dell'auditorium sirena. Dopo i lavori in autunno la struttura potrà ospitare concerti e spettacoli teatrali. E poi in basso l'ail ricorda il magistrato di Ciccio. Gli sarà intitolata la sala convegni. Cerimonia a luglio. Mercoledì spettacolo di beneficenza al Marrucino. Siamo alle pagine di Chieti e l'Aquila. Chieti, sulla pagina di Chieti possiamo leggere Paura a San Salvo rischia di annegare per salvare tre ragazzi. Bagnante si tuffa per aiutare figlia e due amici. Trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara. E in rianimazione. E poi di spalla Chieti al Civitella. Stellario in 2000 all'esordio. In centro torna il divertimento. E poi in basso tutta Rocca Montepiano. All'addio a Vito nel santuario di San Rocco. Commovente ricordo degli amici del 29enne morto nell'incidente d'auto. Siamo nella pagina Aquilana. Reazione allergica fatale. Il motociclista muore. Punto da un insetto. Di Giulio, 59 anni, era un meccanico di Avezzano. La tragedia nel Lazio dopo il malore ha chiesto aiuto in una casa. E poi il consiglio dell'esperto. Va iniettata adrenalina in tempi rapidissimi. Il pungiglione di un'ape va raschiato via. E poi in taglio medio. Quattro arresti per il furto all'ex Coca-Cola. Fallisce il colpo a Corfigno. Finiscono nei guai tre uomini di Popoli e un altro di Torre De Passeri. In basso l'Aquila fulminato da un infarto. Addio a Sciarra, pioniere delle televisioni locali. Siamo alla pagina di Teramo. Tragedia in Trentino. Precipita in montagna. E muore a 23 anni. Lo studente teramano Filippo Di Francesco stava arrampicando da solo. Trovato senza vita dall'elicottero del 118. Stava per laurearsi in management del turismo a Trento. Dove aveva una ragazza. Il padre Lamberto. E il presidente di TIN. Importante azienda che produce software. E poi, sempre per la cronaca di Spalla, leggiamo dal Badriatica Soccorsi. Due bagnini stremati dopo aver salvato una donna. In basso per la politica. Crisi in comune. Si va verso la rottura. Brucchi sul veto al terzo assessore di futuro in sbotta. Ora basta, mi prendo carta bianca. Bianca. Siamo ancora incagliati sui numeri della Giunta dei quali a me e ai cittadini non importa nulla. La mia proposta non sarà modificabile. Chi c'è, c'è. Questo dunque per quanto riguarda il centro. Diamo uno sguardo ora anche da alcune pagine del messaggero Abruzzo prima di dare la linea alla pubblicità e poi di approfondire anche le pagine dello Sport vedendo anche le pagine della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Dunque sul messaggero Abruzzo. Eccoci qui. Siamo alle pagine di Pescara e l'Aquila. Iron Man ha vinto lo spettacolo. Gran tifo per Zanardi. Successi per il francese Vienno e l'austriaca Hüttehaler. Lamentele dei residenti ma pochi disagi sulle strade in città. Il pilota protagonista dell'evento è caduto riferimento chiaramente a Zanardi ma non ha mollato. Quarto l'azzurro Fabian in campo femminile. Gara decisa nel finale. Poi ancora di spalla il consuntivo oggi in Aula. Ruggeri e Poglio, nuovi dirigenti. In taglio medio rigopiano fiori e ronde dei parenti delle vittime. Iniziativa del comitato a cinque mesi dalla tragedia dell'hotel di Farindola. Poi in basso a Montesilvano lotta ai furbetti. Rifiuti, nuove fototrappole ma il degrado non si ferma. Pagina aquilana, metropolitana, dalle ceneri nasce il progetto Metrobus. Con una spesa di 6,5 milioni si punterà sull'asse ospedale terminal di Collemaggio. Saranno smantellate le rotaie e i pali elettrici, nonché sostituite le pensiline. Il piano prevede l'acquisto di nove bus Euro 6, sostenibili e maggiormente confortevoli. Di spalle, in vista del ballottaggio all'Aquila, scaduto ieri il termine. Nessun apparentamento. Biondi è tornato a insistere sul tema del project financing per l'ospedale dopo le dichiarazioni di Paolucci. E poi in basso, post-sisma, le parole dell'ex premier Berlusconi. Noi avevamo sospeso le tasse, la sinistra no. E poi è morto Gianfranco Oshar, gentiluomo del TV. Siamo in Marsica, anche in questo caso ci si appresta ad entrare, anzi siamo entrati nella settimana che porterà al ballottaggio tra De Angelis e Di Pangrazio. Chiunque vinca, io mi oppongo. Cascere non molla, l'avvocato candidato sindaco era l'ultimo ancora rimasto per la dichiarazione di voto. Non ci saranno apparentamenti in vista di ballottaggio tra Di Pangrazio e De Angelis di domenica prossima. Centinaia le schede che mi sono state annullate nel corso dello spoglio, dice il candidato sindaco Cascere. E poi ancora a Tagliacozzo è stato riaperto il ponte delle polemiche. A Sulmona invece per il cinema pacifico sfuma l'atteso lieto fine l'imprenditore Giuseppe Ermenise. Nessuno mi ha chiamato, né risposto alle mie sollecitazioni. E sempre a Sulmona, uniti per combattere la povertà, il comune penigno capofila di un'associazione temporanea di scopo. Siamo alle pagine di Chieti e Teramo. A Chieti l'effetto stellario sveglia Chieti, locali pieni, poi tutti a ballare. Un fiume di giovani anima il sabato notte in 2000, affona nel parco archeologico. La discoteca all'aperto è un grande successo con Boo Williams, leggendario DJ di Chicago. L'entusiasmo di chi arriva da fuori città meglio qui che le serate sulla riviera. Un nuovo evento sotto le stelle il prossimo 15 luglio. Anche stavolta è previsto un ospite di spessore. Di spalle, di spalla, leggiamo, rischia di annegare. Per salvare tre ragazzi in 45 anni finisce l'ospedale in rianimazione. Otto giorni fa la tragedia nello stesso posto. E poi per la cronaca a Chieti picchiato e rapinato a 17 anni alla villa comunale. Pagina Teramana. La cronaca precipita dalla montagna mentre scala le Dolomiti. Filippo Di Francesco, 23 anni, terramano, morto nella zona delle pale di San Martino. Impresa in solitaria SOS della fidanzata quando non l'ha visto tornare a casa. Studente e imprenditore nel settore turistico. Il ragazzo sarebbe caduto da un'altezza di circa 50 metri. Una fine immediata. Il trasferimento in Trentino per avere più chance per stare vicino alla sua compagna. Poi per la politica giunta. Brucchi bloccato dai veti incrociati. 48 ore per decidere. Poi in basso a Giulianova ospedali reparti declassati a day surgery. Chirurgia e ortopedia non avranno più posti letto e non sarà possibile effettuare gli interventi. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa di centro e messaggero. Ma non andate via perché dopo le previsioni del tempo e dopo la pubblicità rientriamo con le pagine dello sport. Di nuovo buongiorno. La seconda parte di mattino sei tutta dedicata allo sport. Iniziamo con la gazzetta dello sport. Questa è la prima pagina. In primo piano ancora il caso Donnarumma. Gigio che botte. Da una parte la versione del procuratore Mino Raiola che ha parlato ieri in conferenza stampa. Dall'altra parte la reazione dell'amministratore delegato del Milan Fassone. Dalla parte di Raiola ecco qui le minacce di morte, le troppe pressioni. Deve andare, voleva restare e poi gli hanno detto o firme o va in tribuna. Non ci sono i presupposti per cambiare idea ma se dovessero chiamare puntini puntini. La replica dell'amministratore delegato del Milan influenzato dalla gente. Se ci ripensa il Milan lo abbraccerà. Mi diceva che sarebbe rimasto. Saremmo disposti a riaccoglierlo a braccia aperte anche i tifosi più incavolati. Mino è stato molto netto ma non escludo ci si possa rivedere. E poi sotto la testata ieri il debutto dell'anno del 21 nel campionato europeo. Dolla-Rumma e due magie. Il portiere contestato, Pellegrini e Petagna in gol. Striscione e bancanotte false dai tifosi milanisti in Polonia. Per l'Italia è buona la prima. 2-0 ai danesi. E poi il commento di Alessandro De Calò come una finale. Ora si può crescere. Poi in basso per il mercato idea Paris Saint Germain. Belotti regalo a Verratti. Il Granata per convincere Marco a rifiutare il Barça. E poi ancora Dani Alves verso il City. La Juventus all'assalto di De Sciglio. E poi il caso CR7. Ronaldo in campo, Zidane lo chiama e Moreno, fresco acquisto della Roma, lo gela col Messico. E poi altri richiami. Salah va al Liverpool, ai giallorossi 40 milioni. Berardi con Di Francesco alla 24 ore di Le Mans. La Porsche rimonta e vince il diciannovesimo trionfo. E poi a proposito di trionfi, Melandri rinasce in Superbike dopo quasi tre anni con Ducati. L'Italia fa cento. Entriamo all'interno della gazzetta. Pagine 2 e 3 dedicate alla conferenza di ieri del procuratore di Donnarumma, Minoraiola. Minacce di morte e di finire in tribuna. Per questo Gigio andrà via dal Milan. Milan voleva restare ma lo ha colpito la frase di Mirabelli, o firmi oppure non giochi. E poi c'è l'editoriale di Andrea Monti, al suo agente conviene, al calcio italiano proprio no. E poi come abbiamo visto c'è anche la replica dell'amministratore delegato del Milan, Fassone. Uno spiraglio benvenga a me, Donnarumma diceva di voler restare. Lui e Raiola ritengono di rivolgersi in futuro a un club più alto locato e con una maggiore disponibilità finanziaria. Insomma, ampia intervista anche con Fassone. Poi per la sostituzione in futuro di Donnarumma, Perin, l'ex pescarese Perin, favorito tra i vice Gigio. E poi Biglia si avvicina. Andiamo avanti. Ecco qui la due pagine sulla partita dell'Italia, Ander 21, al debutto nel campionato europeo nel match di girone contro la Danimarca. Buona la prima. Pellegrini da urlo, Petagna da verano nove. L'Italia si sbarazza della Danimarca. E poi il numero uno di Ander e Milan, striscioni e dollari finti, ma Gigio sa farsi valere. Clima ostile per Donnarumma, insultato dal Milan Club Polonia. Il portiere è teso, ma fa una gran parata e poi dice sorridere fa bene. Bene, avanti ancora con la pagina di mercato che riguarda l'ex biancazzurro Marco Verratti, che è inseguito dal Barcellona. Verratti al Barça, Belotti è la chiave per convincerlo a restare al Paris Saint Germain. Per l'attaccante del Toro l'inserimento non sarebbe un problema. Parigi troverebbe tanti esuli della Serie A. Il Gallo andrebbe volentieri a completare un attacco da sogno e il regista potrebbe rimanere. E poi ancora andiamo avanti. Siamo a un altro titolo di mercato che riguarda un giocatore in uscita dal Pescara, ovvero il portiere Albano Bizzarri. Udinese in arrivo, Bizzarri e Ingelson. Poi ancora, andando a sfogliare la Gazzetta dello Sport, c'è la pagina dedicata al ritorno in Serie B del Parma. È l'alba di un nuovo Parma. La B è anche il riscatto di una città. Il futuro è targato Cina con la benedizione di Crespo. Un successo che sa anche di Abruzzo per la presenza in panchina del pescarese Roberto D'Aversa. Poi abbiamo visto in prima pagina il rinascito a Melandri. È speciale vincere dopo quasi tre anni. A casa, 18 mesi senza corsa, avevo smesso di guardare pure in tv. Sabato vado da Cairoli, dopo Medo Fizioso. Ora tocca a lui. Andiamo avanti a vedere anche la finale entusiasmante del campionato di basket. Una serie Scudetto che ieri ha visto Venezia andare in vantaggio. Tre partite a due con una gara risolta all'ultimo tiro. Venezia da tre all'ultimo tiro. Finisce 65 a 63. La tripla di Bramos, Beffa Trento. Domani il primo matchball Scudetto. Poi ci sono le parole del giocatore greco-statunitense. Michael Bramos, stacanovista e vincente, ma per il titolo siamo 50-50. Il giocatore ha saltato soltanto una gara in due anni. Quel tiro è merito di Figlioi. Ecco il tiro partita di Bramos. Domani appunto gara 6 a Trento. Poi l'eventuale settima, l'eventuale bella, si giocherebbe a Venezia che ha il fattore campo. Lasciamo la gazzetta dello sport. Rapidamente andiamo a vedere anche il corriere dello sport. Questa è la prima pagina. Ragazzi che Italia, europei, gli azzurrini partono alla grande. Una splendida rovesciata di Pellegrini e una zampata di Petagna. Regalano all'Under il 2-0 sulla Danimarca. E poi ecco i segreti. Leggiamo sotto la testata. Ecco i segreti della nuova sede della Juve. Vi sveliamo come sarà il J-Village. Entro fine mese apriranno gli uffici. Tra un anno i campi di allenamento. Poi mercato, frizioni con la Lazio per Keita. In basso leggiamo altri richiami. De Laurentiis, boom fatturato. Napoli da 11 a 200 milioni. Inter da Carrizo a Gabigol. C'è una squadra in vendita. E poi Confederations, Moreno. Primo gol da Romanista davanti a CR7. Melandri sbanca Misano. La Ducati sa solo vincere. Qui siamo appunto alla due pagine sull'Italia. Italia rovesciati i danesi. I ragazzi di Di Biagio partono contratti a ritmo lento. Poi nella ripresa si scatenano dominio e gol. Siamo primi insieme con la Germania. Poi ancora tra le valutazioni, tra le pagelle. In particolare Chiesa è devastante. Barreca è infaticabile. Donnarumma parata decisiva nel finale. Rugani con sicurezza. Berardi è impreciso. Le parole del selezionatore di Biagio. Mai avuto dubbi sul gruppo. E poi anche in questo caso c'è spazio sulla vicenda Donnarumma. Milan Gigio il pugno duro. Mirabelli ha ribadito che su Donnarumma sarà la società a decidere. Ma non sarà ceduto. Il portiere è stato contestato con l'Under 21. Poi come abbiamo trovato in prima pagina c'è all'interno questo reportage sul nuovo J Village che riguarda la Juventus. La signora va in villa. Prima l'officina Canfari in corso Re Umberto 42. Poi San Carlo e Piazza Crimea. Ora nasce il J Village che ospiterà anche gli uffici e sale per le riunioni. E qui c'è appunto questo reportage sulla nuova struttura della Continassa. Possiamo lasciare il Corriere dello Sport. Torniamo ai quotidiani abruzzesi. In particolare ripartiamo dal centro. Ecco l'inserto 9 di Sport. Pescara Genoa duello per Gans. Zeman aspetta il bomber figlio d'arte. Il pescarese D'Aversa racconta il Parma in serie B. Di spalla leggiamo Lega Pro Cerulli Relli, l'ex presidente del Teramo. Il Teramo è in buone mani. E poi in basso serie D. Chiodi, giorni decisivi per la cessione dell'Aquila ai romani. Eccellenza. Chieti su De Fabritis, Frucci e Marinelli. Si muove il Giulianova. E poi il nuovo corso stasera a Lanciano. La presentazione del nuovo presidente De Vincentis. E poi in basso Beach Volley. L'ortonese in evidenza a muro. Nicolai e Lupo terzi nella tappa olandese. Wisp, la cave. Zano conquista la Coppa Abruzzo. Successo ai rigori contro il Santa Teresa. E andiamo ora sulle pagine appunto dove si parla di Pescara. Caccia al bomber. Pescara, Zeman aspetta il sì di Gans. C'è fiducia per l'ok della punta nonostante l'affondo del Genoa. E poi guardando anche altrove in cadetteria si decide il futuro del Palermo. E Lentella vuole blindare il suo bomber Francesco Caputo che in più momenti in passato è stato anche accostato al Pescara. A proposito di Pescara, le parole di un ex come Emanuel Cascione. Il club accontenterà il Boemo. L'ex ora al Cesena in vacanza a Pescara. Salire insieme in A sarebbe un sogno. E come detto in precedenza il Parma torna in Serie B anche grazie a Roberto D'Aversa. Ecco qui la promozione in B di D'Aversa. Che impresa a Parma? Dico grazie alla famiglia. Il tecnico pescarese che ha vinto i playoff di Lega Pro alla guida degli Emiliani. Si dà tutto per scontato ma la squadra è cresciuta in maniera eccezionale. Sì, mi ha chiamato anche Antonio Conte per farmi complimenti. Ora l'obiettivo è quello di continuare a crescere in questa piazza. E ora andiamo avanti con la pagina sul Teramo. C'è Rulli Relli. Il Teramo ha scelto gli uomini giusti. Repetto e Asta mi piacciono ma servirà tanta fame per non soffrire. Mi sono stati offerti degli incarichi in società. Ho preferito non accettarli. Continuerò a fare il tifoso in tribuna al solito posto. Però se è necessario darò una mano. Sono vicino a Campitelli perché ha tanta passione e determinazione. Deve cercare le sue rivincite attraverso i risultati. E poi il centro ci ricorda che oggi ci sarà la presentazione di tecnico DS e programmi. L'appuntamento è le ore 17 nella sala stampa del Bonolis. Con la presentazione di Repetto e Asta. E anche le linee programmatiche del mercato. De Vincentis così il calcio ripartirà a Lanciano. Il nuovo presidente sarà presentato questa sera a programma pluriennale per iniziare la risalita. Avanti ancora con la Serie D. Miccio la disegna lavastese. Una squadra affamata. Il direttore sportivo annuncia che l'organico dei Biancorossi sarà rivoluzionato. Giusto dare una seconda possibilità a Colavitto. Campagna abbonamenti al Via. Lo staff tecnico completato dalla Barba, Cianfrone e Stivaletta. Ritiro a bomba dal 24 luglio e dal 5 agosto. Si prosegue nel centro molisano di Castelmauro. E poi ancora sul fronte l'Aquila. Chiodi domani la cessione dell'Aquila. Calcio sul fronte Pineto. Pomante punto fermo. Stacchiotti a sogna ai saluti. Richieste per Ciarcelluti ed Esposito. E poi la neopromossa Neostellati che però ha la grana dello stadio da adeguare. Neostellati che potrebbero giocare almeno una parte delle partite al Pallozzi di Sulmona. Poi sul fronte Avezzano. Fanti in porta al posto di Lewandowski a Marino. Una squadra da rifondare. E poi il San Nicolò vittoria al torneo di Fabio. San Nicolò applausi ai Bebi della Juniores. Scendendo in eccellenza le due annunciate protagoniste. Sono il Chieti e il Giulianova. Tre colpi per il Chieti. Ecco Marinelli, Frucci e De Fabritis. Un attaccante e due difensori approdano la corte di Aielli. Trattativo in corso per il ritorno del portiere Bifulco. Il Real Giulianova cerca tre pedine per rinforzare la rosa. Caccia aperta a difensore, trequartista e attaccante. Bartolini, Vernacotola e Giorgini scandaliano il mercato. In basso al Badriatica, ipotesi Naccarella per la panchina. Oresti lascia Martinsicuro. Sambuceto quattro acquisti. Promozione il centrocampista Di Sante al Ponte Vomano. Per il rugby. L'Aquila prove d'intesa con i cugini della Polisportiva in attesa della iscrizione al campionato di serie di rugby. Diplomazie in azione, tanti nodi da sciogliere dall'ingresso di nuovi soci agli impianti sportivi. In basso, tennis. CT Lanciano, Reto Cedin B. Male la gara di ritorno dei play-out a Galatina. Salutata la Serie A2 dopo cinque anni. E poi Ironman, che era stato affrontato dal centro nelle pagine della cronaca per le prospettive future. Qui invece siamo alla gara. Ironman che festa. Viennoo trionfa tra gli applausi. Un'ovazione per Zanardio. Sfidato il mare mosso. L'olimpionico Fabian manca il podio di un soffio. In migliaia sulle strade per incitare gli atleti di triathlon. Sesta piazza per il beniamino Daniel Fontana si replica nel 2018. E questa è la classifica. Vedete, Cyril Viennoo francese che vince con tre ore e cinquanta minuti e cinquantadue secondi. A circa tre minuti lo svizzero Manuel Kung. Avanti ancora, ecco l'impresa di Masciarelli. Spezza il dominio dei neoprofessionisti. La staffetta dei Marulli e Bucci vince per il secondo anno. Tra le donne l'arrivo è in volata. Huthaler batte la neomamma. Medaglia di bronzo per la grande favorita Tine Deckers. Ecco qui le prime posizioni della competizione femminile. L'austriaca Huthaler vince con quattro ore e ventiquattro minuti e venticinque secondi. La Lindholm Borg, svedese, arriva al secondo posto. Davvero di pochissimo, con soli tre secondi di ritardo. E poi per il basket Rosetto, Casagrande e Fulz pedine decisive. La società punta sulle due riconferme per ambire ai mille abbonati. E poi in basso l'amatori riparte da Raiola per aprire un ciclo. L'ex capitano divenuto allenatore dovrà gestire un gruppo rinnovato. Grosso resta Pepe in bilico. Mentre l'ex coach Salvemini ha firmato per Sansevero. Sul fronte Chieti, Di Cosmo cerca Soci per restare in A2. Ripescaggio vicino, settimana cruciale per il basket a Chieti. In Casacampi invece la prima mossa è blindare il coach Millina. In basso, Ortona, Weir a caccia del nuovo allenatore. La città respira basket con il torneo delle migliori squadre giovanili. Andiamo ora con la gara città di Teramo. Siamo al ciclismo. Super Fantini in volata si aggiudica la Gran Fondo. L'ex professionista di Lanciano ha la meglio sul pescarese Fedele. Oltre 400 corridori si sono ritrovati al via dopo lo stop. Alla prova dell'anno scorso. Due percorsi da 140 e 80 chilometri con vari dislivelli. Fra le donne la vittoria è andata alla vibratiana Manari, al Terramano Zenobi. Il trofeo De Marcellis nella mediofondo vince D'Angelo grazie alla lungo finale sull'ortonese Trivarelli e sul Terramano Rosini. Per il podismo Raia vince in casa e suo il Running Day di Villa Marchese. In 250 la partenza da Sant'Egidio La Vibrata. L'ex azzurra Mancini decima e prima fra le donne. Prima di passare al messaggero Abruzzo con le pagine dello Sport andiamo a vedere questo servizio dedicato alla giornata di chiusura del torneo Carmine Rodomonti a Terramo organizzato dalla Bonolis Terramo. Carlo, a che effetto fa avere questo torneo intitolato a tuo padre? Tutto giovanile. Sicuramente è una bella sensazione. Nel senso che la città di Terramo è capace di ricordare, di onorare la figura di mio padre in modo significativo. L'ho fatto recentemente con il premio Carmine Rodomonti, sempre con l'associazione Bonolis. Questa credo sia ancora più vicina allo spirito di mio padre, nel senso che il settore giovanile è la parte più sana, pura e libera da costrizioni, anche se tutti quanti vogliono fare la Serie A, però è forse la fase migliore del calcio, anche sia i ragazzini che gli allenatori sono quelli che si dedicano in modo più umano e vivo. Quindi è un bel link legare ai giovani la figura di mio padre. Luca Di Domenico, come vicepresidente della FC Bonolis, facciamo un po' un bilancio di questa stagione che si è andata a concludere. Sì, è stato un bilancio sicuramente positivo, perché quando vediamo il sorriso dei nostri ragazzi, vediamo che comunque tante famiglie si congratulano con noi per il lavoro che stiamo svolgendo e sicuramente dietro a tanto lavoro che c'è è sicuramente un momento di grossa soddisfazione, quindi arrivare a fine anno anche un po' stanchi, però vedere il sorriso delle famiglie e il sorriso dei bambini è sicuramente una grossa soddisfazione per noi. Magari non me lo dirai o magari è troppo presto, ma c'è qualche ragazzo terramano interessante sul quale magari il terramo potrà puntare in futuro? Sì, diciamo che è ancora presto per valutare queste cose. Sicuramente abbiamo dei bambini molto interessanti, molto interessanti perché siamo cresciuti a livello numerico, quindi anche sulla quantità, diciamo che si fa anche una buona selezione. Ogni anno cerchiamo di inserire dentro degli istruttori qualificati, cerchiamo di migliorarci ogni anno per cercare di tendere la perfezione della scuola calcio. Ovviamente senza mai dimenticare quello che è lo spirito di una scuola calcio, il fatto che comunque prima di tutto i bambini debbano divertirsi, i bambini devono stare sereni, i bambini devono imparare delle regole. E ora siamo sul messaggero Abruzzo, ripartiamo dal Pescara. Mercato, il Pescara frena, Vido e Pessina quasi sfumati e per ora è difficile sbloccare anche l'affare Gans, per cui si valuta il ritorno di Cappelluzzo. Respinto l'inserimento del Frosinone sull'interista Palazzi in difesa, se partisse Zampano potrebbe tornare Balzano. Difficile arrivare al terzino di Marco dell'Inter, per Coulibaly alla Juve pausa di riflessione. E poi Coda e Stendardo bloccano Campagnaro, che la società vorrebbe confermare con un contratto legato anche alle presenze, ma prima bisognerebbe cedere Coda e Stendardo, che sono sotto contratto e non hanno al momento grandi richieste. L'ex pinna, il Delfino, lotterà per risalire, dice l'ex portiere del Pescara, nei tempi di Eusebio Di Francesco. In basso, da Versa, a Teramo, la svolta della stagione sul campo dei Biancorossi. Il mio Parma si è ritrovato e ha iniziato la corsa verso la Serie B. Ecco qui la foto di Roberto D'Aversa, dopo la fine della partita di finale, giocata a Franchi di Firenze contro l'Alessandria, vinta 2-0. Complimenti a Roberto D'Aversa per questo importante successo. D'Aversa che era subentrato in corsa a Gigi Apolloni. Lega Pro, il Teramo riparte con la linea verde, budget ridotto, organico da sfoltire, e tanti giovani nel mirino del DS. Dal Pescara potrebbero arrivare il terzino Ventola e l'attaccante Polidori. Questo è lo scatto che ritrae la stretta di mano tra il presidente Campitelli e il neo DS, Giorgio Repetto, che oggi sarà presentato insieme al tecnico Antonino Asta, come appunto ci ricorda il messaggero. In basso per la Serie D, San Nicolò per la panchina, il favorito è Peppe Naccarella, fino a poco fa allenatore dell'Acqua e Sapone in eccellenza. A proposito di eccellenza, Giuliano va in attesa del nuovo attaccante, si cerca la punta da affiancare a Tozzi Borsoi e Di Paolo. Chieti, presi Marinelli, De Fabritis e Fruci. Ecco i primi tre colpi, si tratta Bifulco ma è difficile, piace la mezzala De Pasquale. sempre in serie di Bolami, la Vastese vuole migliorare, il presidente chiede alla squadra un anno con meno alti e bassi. Il nuovo tecnico Colavitto completa il suo staff, tutti in ritiro il 24 luglio a Bomba. Avezzano è rifondazione, terremo solo gli under, il presidente Paris punta forte su Marino, ora fuori i traditori. Poi ancora Pineto, pronto a ripartire con l'obiettivo salvezza, il confermato Amaolo sta gettando le basi. Conferme e obiettivi, la squadra Junioris ha conquistato il terzo posto nella Coppa Disciplina per la stagione scorsa. E poi per, sempre per la Serie D, l'Aquila Stori, tante emozioni sul palco, i protagonisti principali delle stagioni vincenti dei Rosso Blu per quanto riguarda il presente, questa mattina potrebbe esserci l'ingresso in società di quattro nuovi soci. Siamo al calcio a cinque, Colini sul Pescara, troppe ingiustizie, il movimento non merita i nostri dirigenti, spreggevole la sentenza su Canal, ma in gara 1 abbiamo sbagliato a reagire. Il mio futuro è qui, sono nel club migliore. Poi sul fronte dei movimenti, leggero in partenza con lui, via anche Ghiotti in basso, tornando al calcio a 11, Lanciano inizia il nuovo corso, ecco De Vincentis. E poi per la palla nuoto, Pescara punta la 2, il Messina nel Mirino, sabato in programma la terza e decisiva partita alle Naedi. Per il beach volley, per Lupo e Nicolai, terzo posto in Olanda, battuta per 2-1 la coppia svizzera, nella finale per il terzo posto, nel torneo disputato a Laia. E poi in chiusura con la pagina del basket, del messaggero Roseto, primi rinnovi per guardare al futuro. In settimana la società bianca azzurra spera di avere le firme di Fulze, Casa Grande, ancora da trovare invece l'accordo con May. Primo obiettivo sul mercato sarà un italiano senior che possa prendere il posto lasciato libero da Valerio Amoroso. Poi panchine confermate per Campi e Teramo, Pescara aspetta Pepe, si attendono novità sul possibile ripescaggio di Chieti, le nuove regole sull'utilizzo degli under scatenano la caccia ai giovani. E poi l'Aquila discute sui prestiti, Lorenzetti, coach del Gran Sasso. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari, i TG6 delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Io ringrazio in regia Silvia Gentile e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.